buongiorno amici buongiorno allora siamo qua nel bosco adesso vi faccio vedere l'ho già perso ho trovato un funghetto eccolo lì ora ve lo faccio vedere forse c'è neanche un altro l'accapottato allora vi faccio vedere questo bel fungo qua guardiamo se ce ne sono anche degli altri di là mi sembra averne visto un altro mi sembra guardiamo se lo è o lo è prendiamoci il bastone no non lo è niente allora laggiù come vedete sta per albeggiare il sole e noi continuiamo adesso lo puliamo e andiamo alla ricerca delle altre funghi 7 meno 5 per cui siamo regolari poi stavo andando su per il sentiero quindi dai buona visione intanto ecco qua no non lo è niente non è un fungo peccato no non lo è niente allora ragazzi forse lo è anche grosso forse andiamo a vedere facciamo attenzione che bel ritiro no mi sa che non lo è guardiamolo guardiamolo no dov'è 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 ragazzi ecco qua bel fungo mi hanno trovato un altro mamute ragazzi in padella un altro giorno uno così e poi ci ho mi ho sommeggato un po' col pane e un po' con le tagliatelle era strepitoso favoloso ragazzi questo oh questo è stupendo trovarne dieci così sarebbe il top prima di questo ho ritrovato altri due gambi il capriolo si è divertito qua eh godetevi il panorama ragazzi godetevi il panorama ragazzi questo il panorama ragazzi adesso adesso questo i good sono tutti i gambe nella qua si è dimostrato di mangiarla non sono male ok ragazzi dai ci vediamo al prossimo video spero vi sia piaciuto lasciate un bel like se vi è piaciuto e al prossimo video ciao a tutti